ciao a tutti e bentornati allora qui su youtube non si riposa mai io ero presa in una amena discussione sull'aumento del prezzo del grano turco nell'aioa quando arriva tra capo e collo una notifica di una live basta in corso e quindi sono stata subito pervasa da una girandola di sensazioni quali curiosità ansia stupore entusiasmo beatitudine e fiducia ma fiducia in che cosa è che cosa che fiducia nel fatto che neanche stavolta mancheranno le offese per i canali di scolo e però in tutto questo ci siamo dimenticati di dire il titolo della live che avete rotto le palle allora torniamo credo sia una live buasta c'è la chiara in live che sfoggia uno scollo vertiginoso e sta letteralmente friggendo per poter raccontare l'accaduto è abbastanza impaziente verso gli utenti perché gli dice proprio muovetevi ad arrivare perché già mi sono rotta il cazzo cioè ma come si fa a darle torto quando lei stessa si definisce dolce semplice spontanea cazzuta onesta e sincera tira bruttaria insomma tanto che pure la luciana prova ad esonerarsi ma non le viene concesso niente da fare deve stare lì a schiattare esattamente come noi e finalmente si parte lei fa presente che sono stati in visita dai suoi cerini e si è scadenato un vero e proprio putiferio dice sì ma dove è successo tutto sto casino sotto il canale di chiara ma assolutamente no perché chiara i commenti in approvazione il casino si è svolto sotto il canale di davide perché davide non ha i commenti in approvazione e addirittura sono arrivati a dire che loro due cioè chiara e davide tenetevi forte prendono il reddito di cittadinanza non ho parole che squallore arrivare proprio a questi livelli così beceri ma un attimo che ci sistemiamo il reggiseno leviamo via le bretelline e ops è svanito l'effetto push up ma torniamo allo squallore allora sono arrivati a dire che la sua cerina non sopporta per niente chiara e che era felice della loro visita sì ma solamente perché aveva rivisto suo figlio un utente chiede potresti descrivere meglio la situazione magari in una maniera un po più delicata ma certamente caro allora in pratica è che alla sua cerina di chiara non gliene frega un cazzo ecco nel frattempo che succede tutto questo arrivano in chat dei troll che usano dei nick offensivi nei confronti di malica la nipote di davide e giusto davide interviene in modo deciso dicendo che gli specca la faccia no dice queste cose se avete tutto sto coraggio nello scriverle perché non le andate a dire direttamente in faccia ai genitori di malica che così il padre di malica vi vi fa provare l'esperienza del kebab intanto che davide battaglia in chat difende sua nipote malica chiara in live difende suo marito davide dicendo basta state sempre a dire che lui è ritardato siete proprio perfide ecco perché nessuno vi si accolla e poi date della strega a me ma per favore detto da voi poiché siete isteriche acide pettegole frustrate invidiose arrapate eccesse e beh direi che sì effettivamente un bel quadretto ma ma torniamo al cazziatore tutta questa invidia ma da dove nasce dal fatto che non potete avere uno bello come davide oddio qui ci sarebbe da replicare ma voi desiderate bramate un uomo disinibito e insaziabile tra le lenzuola come pure sul piano della cucina come pure tra i cuscini del divano come tra bidet gabinetto esattamente come davide beh e ve la fate passare perché perché lui oramai non è più sul mercato fa parte della scuderia d'alessandro e questa l'abbiamo sistemata a lei per andare a rafforzare quello che il concetto ci esprime un suo parere in merito a donne bellissime della tv dello spettacolo che sono state tradite dai loro uomini con donne meno attraenti perché perché la bellezza passa invece quello che c'è dentro resta dentro nel senso degli organi tipo fegato cuore ebbe certo e sono davvero curiosa di vedere dove vuole andare a parare fa un breve discorso di cui il riassunto è che voi siete gelose del fatto che lei pur non essendo magra riscuote molto molto successo con gli uomini non ha bisogno di truccarsi perché ha una pelle così bella tanto che quando va in giro le danno al massimo 20 anni 20 anni e 20 anni e il segreto di questa bellezza è che lei non usa makeup ma solamente acqua e sapone ma che è acqua di lord e quindi basta bisogna che accettate il fatto che lei riesce laddove altre donne molto più piacenti di lei non riescono perché lei comunque ha una marcia in più riesce laddove gli altri falliscono e questo è uno dei motivi del suo livello di autostima veramente esorbitante e a questo punto della live fa una sorta di cronistoria di tutti i momenti salienti in cui i getters hanno dato di matto 1 quando ha presentato davide alla sua utenza 2 quando sono andati a vivere insieme 3 quando si sono sposati 4 ogni volta che stringe una nuova amicizia 5 quando parte per le sue vacanze extra lusso 6 quando non risponde alle vostre diffamazioni li letteralmente impazzite vabbè questo adesso è quello che fate voi ma cosa pensa lei realmente degli haters che giorno dopo giorno vanno lì ad attaccarla lei pensa che siete cattivi patetici repressi frustrati ignoranti e inappagati della vita di merda che avete ecco io fossi in voi prenderei carta e penna e farei una sorta di promemoria dice perché tu no no assolutamente ora volendo fare qualche piccola considerazione in merito al canale di chiara possiamo dire tranquillamente che le ultime live buasta che sta trasmettendo non hanno più quel sapore quel pepe quel brio oramai appaiono una identica all'altra improntate sempre solo sulle offese verso gli haters i canali di scolo senza poi delle motivazioni effettive così e quindi la cosa a lungo andare sta stancando l'utenza che la segue quotidianamente perché comunque non riscontra differenza tra una live e l'altra mentre per quanto riguarda il discorso novità in arrivo pare che tra circa due settimane fate sarà a milano e le due andranno a fare spese insieme al primark ora per la verità io ero rimasta al fatto che le due si fossero dissociate o meglio che chiara si fosse dissociata da fate quando giravano dei video con le malefatte di fate tanto che l'aveva pure levata dal ruolo di moderatrice e quindi non so credo di essermi persa qualche passaggio a meno che non c'è stato una sorta di chiarimento in privato tra le due bene e questo voleva essere un breve riassunto di quella che è stata l'ultima live buasta trasmessa nel canale di chiara ad alessandro quella col titolo mi avete rotto le palle e quindi a me non resta che augurarvi buona continuazione di giornata e darvi appuntamento a quello che sarà il prossimo contenuto nel frattempo un bacio a tutti da gossip grazie grazie grazie